Dopo la ripresa post-Covid, peggiora nuovamente lo stato di salute del tessuto imprenditoriale. Secondo l'analisi aggiornata dell'osservatorio rischio imprese di Cerved, tra il 2021 e il 2022 le società a rischio di default sono cresciute, passando dal 14,4% al 16,1% e raggiungendo le 99.000 unità. Restano lontani i picchi del 2020, quando le aziende potenzialmente rischiose erano addirittura 134.000. Sul fronte dell'occupazione si tratta di oltre 3 milioni di lavoratori impiegati in società fragili che operano soprattutto al sud, dove costituiscono addirittura il 60% del totale, aggravando il già ampio gap con il nord del paese. Tra le province con i peggioramenti più significativi ci sono Cosenza, Crotone e Reggio Calabria. Le tempestive misure di salvaguardia adottate durante la pandemia hanno contribuito a mettere in sicurezza il sistema e il forte rimbalzo delle performance economiche legate agli effetti del PNRR. Ha portato a disegnare scenari migliorativi. Tuttavia, le condizioni subentrate nei primi mesi del 2022, l'aggravarsi dei rincari delle materie prime e il conflitto russo-ucraino, l'aumento del costo del debito, hanno purtroppo minato la capacità di tenuta di un sistema produttivo già debilitato. I macrocomparti più impattati risultano le costruzioni e i servizi. Quanto poi alle dimensioni, il peggioramento è più consistente tra le micro e le piccole imprese.